L'amministrazione comunale di Figliele Incisa ha stanziato 470.000 euro che serviranno ad aiutare attività e cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Le agevolazioni riguardano la Tari e la Tosap. I bandi sono online e possono già essere presentate le richieste. Sulla Tari l'intervento dell'amministrazione comunale è stato quello, oltre di confermare tutte le agevolazioni per l'utenza domestica e non domestica, hanno state previste anche nel 2019, di intervenire in maniera concreta e forte per quelle attività che hanno subito chiaramente un pregiudizio economico per quanto riguarda l'emergenza epidemiologica. Gli utenti non domestici, quindi le attività economiche e produttive, verificare all'interno del bando quello che è il proprio codice Ateco, quindi verificare qual è il proprio codice Ateco perché una parte delle attività avranno automaticamente d'ufficio una riduzione fino al 30% della parte variabile della tariffa. Altre utenze invece, in base al codice Ateco di riferimento, dovranno presentare un'istanza. La finalità di questo intervento è quello di aiutare a agevolare non soltanto quelle attività che sono state direttamente interessate da decreti che obbligavano la chiusura, ma anche quelle che hanno scelto comunque di rimanere chiusa o che comunque la chiusura è stata parziale, nel senso di una parte dell'attività che svolgono. Sulla TOSAP la tassa di occupazione del suolo pubblico era intervenuta il governo nazionale a sospenderla fino al mese di ottobre. L'amministrazione comunale Figlina e Cisavaldano ha voluto estendere le agevolazioni anche per il periodo successivo, quindi fino a dicembre. Un'agevolazione per la TOSAP permanente che prevederà fino a 90% per quanto riguarda i deorzo e l'occupazione delle attività fuori dai propri locali, così come anche un'agevolazione per quanto riguarda gli operatori del mercato, una distinzione del 50% di agevolazione a favore del settore alimentare e del 60% invece per il settore non alimentare. Per informazioni e chiarimenti consultare il sito www.comunefiv.it o contattare l'ufficio Tributi al numero 055 91 25 219 oppure via mail scrivendo a www.comunefiv.it